Buongiorno a tutti, grazie di essere questa mattina qui in Senato nella Sala Nassiria per un'iniziativa che crediamo importante e la quale siamo molto orgogliosi di aver lavorato a fianco di Parma Io Ci Sto che è l'associazione che ha promosso questa iniziativa tra le tante attività che segue sul territorio di Parma ma con una visione larga, con una visione di impatto sociale, culturale ed economico cioè di sviluppo dei territori e quindi in una logica al servizio del Paese. Io sono Lelio Alfonso, il managing partner a Milano di Comine & Partners e come società abbiamo accompagnato veramente con orgoglio e con piacere questo percorso e ovviamente questo non poteva avere una conclusione felice senza il lavoro incredibile e davvero dedicato da parte del senatore Giorgio Maria Bergesio che è qui a mio fianco, che è il vicepresidente della nonna commissione del Senato e che ha preso a cuore con grande lucidità uno spunto che è quello che veniva dalle attività appunto dall'idea di Parma Io Ci Sto e lo ha trasformato in un disegno di legge. Non è una cosa di poco conto perché vuol dire che il Parlamento ha visto nello spirito di un'associazione territoriale che ha però un grande impatto è stata protagonista di tante iniziative a Parma e sul territorio a partire da Parma Capitale della Cultura e quindi oggi in un certo senso si chiude una prima fase ma ovviamente non si chiudono né le attività di Parma Io Ci Sto né poi ci racconterà il senatore Bergesio la visione delle prospettive che questo disegno di legge può avere anche per altri territori ed è quindi un'occasione per mettere un partenariato pubblico-privato legislativo da questo punto di vista che però poi può diventare, gemmare iniziative di grande rilievo. Abbiamo poi al tavolo la professoressa Veronica Vecchi che è un'autorità in materia di valutazioni di impatto e anche di capacità da docente della Sdabocconi e da tanti altri impegni. Ci porteremo via tempo a raccontarli tutti ma non ha bisogno davvero di presentazioni. Andrà ad analizzare il testo e a spiegarci, speriamo, tutte le cose che vanno bene e quelle che possono essere magari integrate e ovviamente il presidente Alessandro Chiesi, il presidente di Parma Io Ci Sto però poi ci aggiungeranno altri ospiti e avremo altri interventi. Quindi poco tempo, troppo tempo vi ho rubato, poco tempo se no altrimenti resta al senatore Bergesio la parola. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Naturalmente sono onorato di essere qui oggi a presentare questo disegno di legge che è frutto di una condivisione con voi di Coming & Partner che avete anche sostenuto, sollecitato, informato di questa situazione che era già stata avviata in un percorso forse diverso nella scorsa legislatura. Intanto sono onorato di essere qui vicino al presidente di Parma Io Ci Sto, Alessandro Chiesi che non rappresenta solo Parma Io Ci Sto, rappresenta un primario gruppo farmaceutico a livello mondiale e si avviciniamo oltre i 3 miliardi di fatturato siamo e questo è molto importante soprattutto per quanto riguarda chi lavora e genera ricchezza nel nostro Paese che la ricchezza di conseguenza si riversa anche su questo provvedimento che noi oggi andiamo a presentare. Ringrazio anche la dottoressa Veronica Vecchi, la docente della Bocconi School and Management io credo che qui oggi ho anche dei colleghi presenti, saluto la senatrice Fregolen che è qui oggi con noi dovrebbe arrivare anche il collega Massimo Garavaglia che però è impegnato in RAI ieri abbiamo avuto un appuntamento importante con la storia del nostro Paese con l'approvazione dell'autonomia differenziata qui al Senato della Repubblica perciò oggi c'è molta comunicazione su questi temi ed è importante che vadano le persone competenti e preparate su questa materia onde evitare di perdersi soltanto in cose che poi non sono così contestualmente apprezzabili anche da parte per dare un'informazione corretta. Bene, in un contesto economico e sociale complesso caratterizzato da sfide senza precedenti come la pandemia, la crisi energetica e la situazione geopolitica del nostro Paese riteniamo noi oggi che sia fondamentale adottare delle misure concrete per affrontare la fase di ripresa e costruire una società più equa, sostenibile ed inclusiva. Il disegno di legge propone infatti di istituire un contributo a decorrere dall'anno 2024 a favore di tutte le iniziative che abbiano un impatto sociale significativo. Questo contributo sarà destinato a progetti di manutenzione, recupero di beni pubblici nonché iniziative senza scopero di lucro volte al benessere individuale e collettivo. La difficile congiuttura economica e sociale che stiamo attraversando richiede una profonda revisione anche e soprattutto delle politiche pubbliche e dei rapporti tra pubblico e privato. Nel perseguire l'obiettivo di costruire una società più equa, più inclusiva, è necessario superare il tradizionale rapporto tra poteri pubblici e privati, promuovendo una collaborazione sinergica che possa portare a un cambiamento di paradigma. Il nostro disegno di legge si basa su principi chiave come la sussidiarietà orizzontale, introdotta in Costituzione nel 2001, che riconosce il ruolo delle forze economiche e sociali nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali insieme alle istituzioni. Tuttavia, per garantire una piena ed efficace applicazione di questo principio, è necessario adottare politiche pubbliche di supporto alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale. Inoltre, il disegno di legge si allinea con le sfide europee, in particolare quella relativa al piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi riteniamo che il contributo significativo all'inalzamento della crescita debba provenire dagli investimenti e dalle riforme previste in questi piani, con un occhio attento alla realtà locale e all'iniziativa di impatto sociale. Il cuore del nostro disegno di legge è la creazione di un fondo finalizzato a rerogazione di contributo per una commissione tecnica, con una commissione tecnica che verrà incaricata di valutare l'idoneità degli interventi. L'obiettivo è non solo riconoscere economicamente i progetti capaci di generare un effetto moltiplicatore per quanto riguarda l'interesse pubblico, ma anche e soprattutto di valorizzare i beni e naturalmente di mantenere nel tempo alcuni beni culturali che sono estremamente importanti. La definizione di impatto sociale centrale nella nostra proposta si basa su indicatori precisi ispirati agli standard dell'Ocse per la qualità della vita e ai criteri utilizzati dall'Istat per i BES. Questi indicatori mirano a selezionare quei progetti che non solo affrontano le dimensioni socio-economiche, ma contribuiscono anche a costruire legami e relazioni tra le persone, soprattutto generando un capitale sociale positivo. In conclusione ci tengo a sottolineare che questo disegno di legge rappresenta un passo concreto verso la costruzione, secondo noi, di una società più equa, più sostenibile, inclusiva. Noi siamo convinti che investire in iniziativa di impatto sociale contribuirà non solo alla ripresa economica, ma anche a promuovere il benessere e la coesione sociale. Io ringrazio veramente tutti i colleghi che hanno già firmato questo disegno di legge, chi naturalmente è aperto questo disegno di legge vorrà firmarlo. Oggi è assegnato alle commissioni riunite all'ottava commissione e alla nona commissione e intanto cercheremo di avviare il percorso l'iter in modo tale che potremmo anche avere poi una soddisfazione nel corso e nel corso attualmente della discussione noi siamo aperti anche a migliorare il testo, perché non ci riteniamo comunque di aver, diciamo, di aver fatto, abbiamo fatto un buon lavoro e qui ringrazio gli uffici, soprattutto l'ufficio legislativo del nostro gruppo Lega, perché si è impegnato a fondo in questo, nel redigere questo provvedimento e dall'altra parte cercheremo di migliorarlo ancora in commissione. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie senatore. È molto chiaro, l'obiettivo era chiaro, lo scopo è chiaro, il contesto è ampio. Per raccontare perché Parmaio Cistò crede profondamente in questo, fin dalla sua nascita, come è nata l'idea e dove siamo e dove sarà. Parmaio Cistò, il presidente Alessandro Chiesi. Grazie Leglio, buongiorno a tutti, io sono, devo dire, molto onorato, è anche un grande piacere essere qua, sono anche vagamente intimidito, però al tempo stesso davvero contento perché secondo me è un momento importante e non scontato in cui la società civile e chi ci guida, chi fa le politiche, chi fa le regole, si incontrano in maniera costruttiva pensando davvero a un tema di interesse comune. Il senatore Bergesio ha parlato di società equa, inclusiva, sostenibile. Noi a Parma l'abbiamo tradotto col termine di buon vivere, in che senso? Che in un territorio, in una comunità, se non ci sono le condizioni appunto perché si possa tutti vivere bene e avere quello che serve per svilupparsi in maniera sostenibile, le cose non funzionano, ma non funzionano per nessuno, a partire dalle aziende che lavorano, che hanno le loro persone, il loro cuore, le loro attività, i centri di ricerca, i centri di produzione in quel territorio, in quella comunità. E da questo, da questa consapevolezza e devo dire anche dal senso di responsabilità, diciamo così, di questi soggetti, prevalentemente aziende, ma non solo, ci sono professionisti, ci sono associazioni di categoria, ci sono singoli cittadini e cittadine che si sono messe, hanno detto ci stiamo, Parma io ci sto, per costruire appunto le condizioni per poter fare cose che da soli oggi, sia i privati, ma anche il pubblico purtroppo, vista le difficoltà in cui ci muoviamo, fanno fatica a fare e a mettere a terra. Ne è nata una storia che va avanti da adesso sei anni, abbiamo più di 140 associati, che si impegnano proprio per creare le condizioni per far partire e far volare iniziative di questo genere, iniziative che hanno appunto l'obiettivo di avere un impatto sulla società, sul territorio, sul welfare, sulle condizioni che servono appunto per essere più competitivi, perché anche di questo stiamo parlando, essere attrattivi per persone, per talenti, capaci di formarli, di svilupparli, di offrire a chi viene a vivere a Parma o torna a vivere a Parma, spesso si parla appunto di tornare, possa trovare un posto dove si vive bene. Da questa esperienza in cui il pubblico e il privato lavorano insieme, ci vuole del tempo evidentemente, ma poi le cose succedono, è nata come diceva Lelio, che ringrazio ancora insieme al suo team per gli stimoli e poi il lavoro concreto che è stato fatto insieme. Nascono, sono nate iniziative importanti, hai citato Parma, capitale della cultura, è davvero emblematica perché non solo è stata finanziata insieme dal pubblico e dal privato, ma è stata veramente costruita ed è stata assegnata a Parma premiando proprio il modello di collaborazione. Dopo sei anni di esperienza, anzi veramente è passato un po' di tempo, quindi era un po' prima, ma è nata anche questa idea. Se c'è un modello che funziona, un approccio che funziona, perché a non proporlo ad altri e magari confrontarsi per migliorarlo, ma dall'altro, perché i territori poi, e in Italia ne abbiamo tanti, hanno tutti le loro sfide e sono tutte simili, ciascuno poi con le sue caratteristiche, ma anche perché non provare a lavorare per creare condizioni che favoriscano questo sempre maggiore impegno e impatto dei soggetti privati sul benessere comune, sul bene comune. Da qui questa idea e davvero la soddisfazione e il grazie per averla guardata con occhio positivo e aver sposato l'idea proprio di lavorarci poi insieme per cercare di realizzare una cosa che speriamo sia di interesse davvero per tutti. Speriamo che appunto venga adottata e portata avanti velocemente perché pensiamo che possa rappresentare uno strumento significativo a fronte del quale evidentemente le aziende, i soggetti privati, le associazioni sono chiamate poi a prendere la responsabilità di farsi promotori di queste iniziative. Quindi di nuovo grazie, complimenti e auguri in bocca al lupo perché la cosa abbia poi un fine positivo. Grazie Presidente, intanto salutiamo il Senatore Stefano Borghi che ci ha raggiunto e la parola all'esperto, a chi veramente ha letto in filigrana e non solo il testo del disegno di legge ma soprattutto per la grande esperienza della Professoressa Vecchi che è un primo contributo in tempo reale ai lavori che all'iter che questa legge avrà. Prego Professoressa. Grazie mille per l'invito, io devo dire che ho preso tanti appunti e quindi spero di condividere alcuni input con voi non tanto per migliorare il testo ma soprattutto per fare in modo che effettivamente questa norma possa conseguire questi obiettivi molto importanti. Allora è un disegno di legge credo molto interessante e molto innovativo e molto contemporaneo perché riconosce il ruolo della collaborazione pubblico privato per la generazione di valore e soprattutto riconosce di valore pubblico, di valore sociale e soprattutto riconosce il ruolo del privato che può contribuire alla generazione di valore. È molto importante perché è chiaro che questo tipo di iniziative si possono fare senza che ci sia un disegno di legge e l'esperienza, una legge, l'esperienza di Parma ce lo conferma. Però è anche chiaro che questo tipo di iniziative nascono in modo spontaneo in quei territori dove c'è un maggior capitale sociale e quindi noi ci dobbiamo preoccupare anche di quei territori dove il capitale sociale è molto più debole e quindi questo tipo di collaborazioni pubblico privato che a me piacerebbe chiamare public private plural partnership. Quindi pubblico privato plurale perché coinvolge anche organizzazioni delle 4P, organizzazioni del terzo settore e della società partnership. Perché la parola partnership è chiara? Perché in questo momento storico ci troviamo di fronte a delle sfide della società che sono estremamente complesse ed è evidente che il pubblico e non è semplicemente una questione di budget ma anche di capacità del pubblico di essere dinamico, flessibile, di conoscere anche quelli che sono i nuovi trend, le nuove soluzioni e allora è lì che il privato può dare un contributo. Io vedo l'importanza di questo disegno di legge non solo nel contributo di tipo finanziario ma soprattutto in un contributo in termini di idee e di capacità di generare innovazione sociale. Quindi spero che questa futura legge non porterà solo esclusivamente a donazioni per il recupero di immobili pubblici. Quindi spero che ci sia meno cemento e più idee innovative. Credo anche che ci siano degli importanti benefici per il privato nel senso che lavorare a stretto contatto con la società può diventare per le imprese un driver per individuare nuovi modelli di business e nuove soluzioni. E quindi questo ci porta diciamo verso modelli, verso strategie di impresa che sono state chiamate shared value creation. Quindi il business che nel fare business però genera anche un impatto positivo per la società. Poi ricordiamoci che è anche molto importante perché in questo momento storico l'Unione Europea ha approvato la tassonomia ambientale, approverà la tassonomia sociale. Quindi è un ulteriore input in questa direzione. Credo che il ruolo della commissione di valutazione sia molto importante. Mi candido se ci fosse bisogno di un supporto. Perché dobbiamo... è molto importante nel senso che è chiaro che il rischio, se noi facciamo una valutazione sulla base della promessa dell'impatto sociale e poi però bisogna effettivamente verificare, esposto questo impatto. Io vi do solamente un messaggio. Una decina di anni fa nel Regno Unito nacquero i social impact bond, quindi contratti a impatto sociale che servivano per attirare la finanza di impatto. Benissimo, erano contratti estremamente interessanti che più o meno vanno in questa direzione. Ma ne abbiamo fatti neanche 300 in giro per il mondo perché di fatto sono state investite più risorse nel capire che tipo di impatto si voleva conseguire e come misurare questo impatto rispetto a poi effettivamente il fatto di mobilitare idee capitali. Quindi è importante misurare l'impatto perché obiettivamente dobbiamo stanziare delle risorse del bilancio pubblico ma non ci incistiamo troppo su questa dimensione perché altrimenti rischiamo di creare un qualche cosa di eccessivamente burocratico. E nacquero anche in Italia... ci fu un bando, mi ricordo, della funzione pubblica un po' di anni fa proposto dalla senatrice o deputata Melandri, non ricordo, che ha partorito pochissimi progetti ma proprio perché c'è stato un lavoro a monte di preparazione di queste iniziative. Deve essere uno strumento molto molto agile, molto veloce e quindi i criteri potrebbero essere la scalabilità di queste iniziative intesa non solo in termini di replicabilità ma anche di possibilità di attirare altri capitali privati, ovviamente l'impatto ce lo siamo detti ma l'innovazione sociale, noi dobbiamo fare in modo che ci sia la voglia di sperimentare nuovi modelli e poi ovviamente anche il grado di coinvolgimento del pubblico e del terzo settore, delle imprese private proprio perché deve essere uno strumento proprio per creare un reale cambiamento culturale in questo paese. Ecco, questi sono un po' gli stimoli che volevo condividere con voi. Grazie. Professore, sai, come dire, abbiamo già ulteriore lavoro da mettere in pratica soprattutto sul tema dell'agilità dello strumento normativo perché altrimenti la teoria pesa molto sulla pratica e qua se davvero dobbiamo aggiungere ed è bellissimo il tema della quarta P della pluralità se dobbiamo essere plurali anche grazie a contributi come questo è fondamentale che questa pluralità sia estremamente pragmatica ed estremamente concreta. Grazie anche per la vostra rapidità negli interventi che ci dà la possibilità di ascoltare anche un'ulteriore riflessione da parte del primo firmatario del senatore Bergesio e anche però, vista la gradita presenza del senatore Borghesi che in Commissione Finanze quindi in automatico diventa per noi un'autorità per quello che dobbiamo, perché dobbiamo andare a immaginare per questo disegno di legge. Magari una prima riflessione da parte sua ci è molto gradita in attesa del Presidente Garavaglia. Sì, grazie. Porto anche i saluti del Presidente Garavaglia che in questo momento non è potuto essere presente. direi che questo progetto di legge è un'ottima idea, è un'ottima idea per tanti aspetti. Diciamo che si innesta in un periodo economicamente non felice per il nostro Paese. Adesso non voglio stare a ricordare tutte le difficoltà degli ultimi anni a partire dal Covid per poi passare alla guerra, alla crisi energetica e quant'altro. quindi in un contesto sicuramente economicamente complicato e economicamente difficile un'idea di questo genere che va a incentivare questa forma di collaborazione pubblico-privata che farà da moltiplicatore, perché poi la caratteristica principale è questa, iniziare una sfida di innovazione, di sviluppo, di una nuova idea di società basata appunto su una collaborazione pubblico-privata che faccia da moltiplicatore di valore. Quindi un cambio di mentalità in un momento difficile in cui è necessario un cambio di mentalità, perché proprio nei momenti più critici, dove c'è una spinta maggiore, chiamiamola così, all'innovazione e quindi è assai più facile oggi parlare di queste cose magari rispetto a ieri. Certo, ci sono dei punti che devono essere ben focalizzati. La dottoressa prima ha fatto un intervento molto preciso che condivido. serve misurare ovviamente l'impatto sociale in maniera oggettiva, ma non serve solo fare quello. Quindi se noi vogliamo arrivare ad un obiettivo che è quello di generare valore attraverso un cambio di mentalità e quindi riuscire a creare questa partnership pubblico-privata vera, che poi faccia del bene alla nostra società, ma questo secondo me è uno strumento che il senatore Bergesio come primo firmatario ha pensato, uno strumento assolutamente utile, innovativo, al passo con i tempi e che si innesta in un periodo infelice da un lato, ma felice per queste iniziative dall'altro. Quindi è una buona risposta alle difficoltà che oggi ci sono, anche come Commissione Finanza, immagino che nel più breve tempo possibile riusciremo a valutare questa proposta per poi portarla avanti e farla diventare legge, però secondo il mio parere iniziative come queste sono la giusta risposta alle difficoltà che in un momento molto particolare il nostro Paese sta vivendo. Quindi da parte mia ha massimo sostegno, massima stima in questa proposta e sono convinto che possa generare solo effetti positivi. Perfetto, grazie, estremamente utile anche una promessa di impegno sulla rapidità dell'analisi, della valutazione che non può che farci piacere. Visto che siamo perfettamente nei tempi, anche perché poi non dimentichiamo essendo conferenza stampa e ringrazio i colleghi delle varie testate che sono presenti, daremo spazio anche a loro per delle domande, per delle curiosità, perché ovviamente anche queste sono un contributo. ridarei la parola al senatore Bergesio che a proposito di pluralità, mentre parlava la professoressa Vecchia ha avuto già una prima idea, ma la lascio dire a lui, su come contribuire alla pluralità con altri interventi e altre testimonianze. Prego. Grazie. Io credo che sia utile anche il contributo della senatrice Fregolent, con il quale ci siamo confrontati anche ieri e penso che lei, anche con il suo gruppo, potrà dare una mano al sostegno e contribuire a migliorare anche questo testo. Grazie. In realtà per una volta era venuto a ascoltare, che è una cosa rara per me, ma... In realtà ringrazio veramente il senatore Bergesio perché ieri noi siamo in commissione nona insieme e io sono tra l'altro nella commissione anche ottava, quindi come dire, abbraccio tutte e due le commissioni che sono competenti per questa legge. Proprio ieri ne stavamo discutendo e mi sono imbucata in questa conferenza stampa perché da piemontese come Bergesio sono stata eletta Parma e Parma io ci sto effettivamente è un buon esempio di buona politica sociale nel territorio. In Italia ce ne sono molte di esempi come questo, la mia stessa città Torino ha visto dalla collaborazione privato pubblico, una trasformazione da città fabbrica a città del turismo e dei servizi, cosa che era impensabile se si pensa a come è nata la mia città. In Parma si vede ancora più armonia rispetto alla mia di origine perché effettivamente in una cultura che è già una cultura di cooperazione da sempre tra produzione e società si vede anche lo sviluppo di una realtà veramente incredibile. Questo può essere un modello esportabile, prima con la professoressa Vecchi parlavamo del PNRR anche con il dottor Chiesi, delle opportunità che ha spero ancora il PNRR nel fare i progetti di resilienza, lo dobbiamo dire, noi abbiamo dei grandissimi funzionari pubblici che sono già all'altezza della sfida, in altri campi molto di meno e quindi il rapporto con il privato deve essere visto come un rapporto a integrazione anche di qualità umana, di conoscenze umane per portare a casa una trasformazione della nostra società che è una trasformazione già nei fatti, lo si chiede, i corpi intermedi oggi sono più deboli e non riescono più a essere solamente loro attrattivi delle soluzioni per questo chiederò al collega se posso firmare il suo progetto di legge si parla di terzo settore, si parla di privato e si parla di pubblico che sono le tre realtà che in questo paese funzionano. il sabato scorso ero a Parma proprio per parlare di valore cultura dove c'era la possibilità per le imprese di fare cultura e ampliare l'art bonus perché oggi il pubblico, non perché ci sono poche risorse, non è quello il punto e lo stesso Ministero della Cultura ti dice l'art bonus funziona perché viene dall'agenzia delle entrate mentre invece noi per dare i contributi dobbiamo fare una valutazione, dovevamo fare dei criteri, dovevamo fare dei bandi, i bandi spesso ci sono dei ricorsi quindi poi alla fine quando arrivano i contributi sono passati quattro anni dall'inizio del progetto mentre una detrazione all'origine è molto più efficace. Ho parlato proprio di questo esempio perché questa proposta di legge può essere un'integrazione a una nuova visione di società che non vuol dire che il pubblico si disinteressa della società ma vuol dire che c'è una collaborazione stretta in modo che il nostro paese, le nostre città apparterranno a tutti, nessuno si sentirà escluso, non appartiene solo alla classe dirigente che in quel momento viene eletta per guidare quella città ma appartiene a un'intera collettività che potrà poi giudicare cinque anni dopo se la persona che ha votato come ultimo emissario per portare avanti certi progetti lo ha fatto bene o lo ha fatto male ma tutti si sentono partecipe e infatti prima facevo i complimenti a Dottor Chiesi perché Parma io ci sto e proprio da senso come già il nome, il brand, di un'appartenenza ad una realtà e quindi gli ho fatto i complimenti perché effettivamente si sente l'amore per il luogo e quindi ringrazio per questa proposta di legge che potrà essere diffusa in tutte quelle realtà in cui ci si sente come appartenenza ad una realtà e abbiamo tantissime in tutta Italia degli esempi in cui la società vuole partecipare direttamente alla gestione della cosa pubblica. Grazie. Grazie senatrice, davvero abbiamo già una notizia al fatto che a proposito di pluralità evocata dal professore Savecchi il fatto che ci sia la disponibilità, la richiesta e credo accogibile di allargare in modo ampio, trasversale al di là delle logiche partitiche con firme di esponenti di altri partiti per noi personalmente è una grande soddisfazione credo anche per il Presidente Chiesi e dimostra il senso con cui il senatore Bergesio ha firmato e proposto questa legge, il fatto che sia una legge larga, una legge ampia una legge a disposizione del Paese e quindi a disposizione di tutte le voci che il Paese può esprimere chiedo ai colleghi dei media della stampa se hanno delle domande, delle osservazioni, delle curiosità prima di dare la parola al senatore Bergesio per le conclusioni, se ci sono ulteriori dubbi o altro nessuno, siamo stati così bravi, incredibile no, niente ah no, ce n'è una, ecco, da solo 24 ore, prego se effettivamente potete illustrare qualcosa delle iniziative di Parma, io ci sto nel posto di anno perché con Champana sappiamo quante volevoli, quante belle praticamente la conferenza stampa finisce stasera però no, perché se incominciamo cioè dare un senso un po' di confrittezza ok, Laura Traversi, grazie grazie, ci siamo concentrati sulle eccellenze del territorio perché pensavamo che da lì ci fossero gli elementi per come dire, tra virgolette vincere la sfida e quindi il food per quel che riguarda, e l'alimentazione per quel che riguarda la parte, come dire, produttiva perché è connota in maniera forte la nostra provincia la cultura e la musica, abbiamo Verdi la formazione e l'innovazione come elementi e motori appunto dello sviluppo sostenibile il tempo libero e il turismo ma di nuovo il tempo libero per tutti perché fa parte dell'offerta di vita del territorio a cui si sono aggiunti, si è aggiunto poi l'ambiente, la sostenibilità ambientale siamo partiti, la prima iniziativa di Parma Eucistò ha riguardato proprio la formazione e la collaborazione con l'università per la creazione di un polo di alta formazione proprio nell'ambito del food e dell'alimentazione era interessante perché era l'opportunità per iniziare una virata dell'offerta formativa del nostro Ateneo che è un Ateneo universalista ma che per competere di nuovo deve trovare una sua connotazione e quella fu una scelta secondo me molto corretta Parma è la capitale della Food Valley e allora c'era l'aspetto dei contenuti che cosa mettere dentro a una scuola di questo genere di nuovo si parla di formazione quindi una delle cose più importanti che ci servono a giorno d'oggi in cui le competenze sono obsolete quasi nel momento in cui ci si affaccia al mondo del lavoro ma anche il contenitore, la sede e allora di nuovo tra università e privati furono messi insieme diversi milioni di finanziamenti quindi i privati collaborarono in maniera molto significativa da lì nell'ambito della formazione è nato un percorso che ci ha visto per esempio impegnati nel far nascere e far crescere quelli che noi chiamiamo farm sono dei siti di formazione nell'ambito tecnico ne abbiamo uno dedicato all'innovazione, uno dedicato al food uno dedicato alla logistica, uno nascente dedicato al prosciutto di Parma e un altro sta nascendo alla meccatronica tra l'altro in zona montana quindi con anche una ricaduta possibilmente in termini tra virgolette sociali e sono interessanti perché oggi si parla di ITS, di STF, di formazione appunto tecnica adeguata alle esigenze dei tempi ma poi calarli a terra e farli funzionare è difficile e lì si sono messi insieme di nuovo le scuole, le aziende, l'università, le agenzie del lavoro eccetera e sono stati creati questi poli che di nuovo danno una risposta concreta abbiamo fatto la capitale della cultura, siamo stati davvero proprio co-promotori ma co-disegnatori del progetto e alla fine anche dal punto di vista finanziario abbiamo fatto credo una cosa estremamente significativa siamo partiti promettendo che ci avremmo messo a occhi chiusi almeno 2 milioni di euro il mondo del privato di Parma alla fine l'iniziativa che purtroppo ha vissuto l'era del covid e quindi è andata come è andata è riuscita a investire più di 15 milioni di euro divisi un terzo, un terzo, un terzo tra pubblico locale, pubblico nazionale e privati e quindi di nuovo l'idea che si possano moltiplicare le risorse se ci sono dei progetti forti stiamo collaborando adesso, anzi abbiamo collaborato, abbiamo lanciato un progetto per esempio per la rigenerazione urbana legato a un luogo molto emblematico della nostra città che è l'orto botanico anche qui l'idea è quella di accendere i progetti poi non li dobbiamo fare noi l'orto botanico è un luogo dell'università è un luogo di formazione scientifica di divulgazione, di innovazione anche anche qui dal progetto che è stato offerto all'università si sono riusciti a raccogliere fondi per oltre 10 milioni se uno ci pensa è tantissima roba grazie proprio al fatto che ci fosse il progetto giusto le risorse giuste, le idee giuste nel momento giusto per attivare anche dei fondi pubblici che oggi hanno proprio bisogno, richiedono la collaborazione pubblico privata il pubblico ci mette dei fondi se ci sono anche i privati che fanno altrettanto e poi ci sono tante iniziative anche su scala più piccola abbiamo collaborato per esempio a far nascere il chilometro verde Parma un consorzio di forestazione urbana che è un esempio a livello regionale e nazionale secondo me piuttosto che un'altra piccola cosa stiamo collaborando a far nascere un'idea che nasce dalle aziende si mettono insieme per condividere progetti di welfare aziendale il welfare aziendale si chiama Well Done è nata proprio così, in maniera spontanea ma perché? Perché le aziende a Parma sono abituate a lavorare insieme a confrontarsi, a quel punto cominciano a parlare con il pubblico perché ovviamente è interessato, si condividono esperienze si sta creando una piattaforma proprio per fare questo e poi si cominciano a fare anche iniziative in comune il welfare è un altro esempio di come oggi sia necessario attivare, coinvolgere, responsabilizzare anche i soggetti privati senza le aziende oggi il welfare davvero diventa una sfida quasi invincibile noi abbiamo un fortissimo interesse evidentemente dobbiamo assumerci e vogliamo assumerci la responsabilità farlo insieme è uno dei modi per vincere chi ne nasce ma ce ne sono tante altre Ecco se c'erano dei dubbi su quante cose si possono fare su un territorio credo che le abbia sintetizzate bene il Presidente Chiesi e davvero ce ne sono tante altre il problema è quello lì che si poteva andare avanti davvero per tanto la chiusura dei lavori di questo appuntamento del quale ancora vi ringrazio al Senatore D'Arcesio Grazie naturalmente per l'impegno di tutti grazie al Presidente Chiesi grazie alla Professoressa Veronica Vecchia tra l'altro faccio anche tanti auguri per il suo incarico che ha importante come si ode le infrastrutture Milano-Cortina 2026 che insomma è anche questo un lavoro di grande preparazione di un evento straordinario che impatterà sicuramente su aspetto economico, sociale, sul rilancio del nostro Paese e voglio ringraziare Stefano Borghesi che è il Capogruppo in Comissione Finanze insieme al Presidente Garavaglia gli estendergli anche ringraziamento a parte nostra perché ha contribuito con la sua esperienza e la sua professionalità Massimo Garavaglia ha contribuito alla stesura di questo provvedimento dandoci delle indicazioni puntuali e chiare per non poi avere delle difficoltà sia in fase di approvazione ma soprattutto di applicazione perché qui bisogna poi essere in grado di risolvere la situazione diciamo più complessa che quella dei contributi identificare poi le scale dei valori eccetera io credo che oggi siamo al nastro di partenza non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo se non quello di presentare il provvedimento l'impegno di tutti noi e di tutti molti colleghi non ci sono questa mattina mi hanno anche scritto perché hanno le commissioni attive si sta votando in parecchie commissioni sapete che anche la riduzione dei numeri dei senatori incide pesantemente sui lavori e allora bisogna essere molto attenti anche per le commissioni a cui serve il numero legale soprattutto anche per l'interesse dei provvedimenti però noi siamo convinti di rappresentarli nel miglior modo possibile e dall'altra parte cercheremo di far sì che ci sia una strada importante un percorso diamo anche la possibilità agli imprenditori i privati come Presidente Chiesi ma come molti altri che magari nel nostro paese hanno intenzione di contribuire in modo importante soprattutto per il rilancio di quello che è la parte culturale di quello che è la parte storica e di generare quelle necessità che sono importanti per valorizzare il nostro patrimonio artistico ma io credo che anche di vivibilità perché quando noi andiamo a rilanciare un bene di queste caratteristiche significa anche renderlo socialmente vivibile e contribuire anche per i giovani la scuola, la formazione ci sono dei percorsi molto molto importanti e si innestano poi con tutto il resto il tessuto, la valorizzazione del turismo diciamo la parte no gastronomica tutta la parte di visite di accoglienza eccetera perciò grazie per tutto questo ringrazio anche la dottoressa Erika Munno per il suo impegno come ringrazio la Sara Vittori del nostro ufficio legislativo perché si è impegnato nel realizzare questo e naturalmente noi siamo a disposizione il contributo di tutti è importante perciò apriamo questa fase di ascolto cercheremo di incardinarlo anche con la collaborazione della senatrice Fregolen che ha detto che lei ha questa possibilità che entrambe le commissioni di incardinarlo perciò grazie per il vostro impegno grazie perché avete contribuito oggi ad essere qui e a rendere comunque a dare un'informazione corretta e puntuale di quanto avete fatto come Parma io ci sto ma soprattutto di quello che potremo fare insieme grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti